Hai chiesto ad Alec di perlustrare Staten Island con me? Sì, volevo portare qualcuno di fidato. Hai detto tu che trovare Valentine era una priorità. Sì, ma non dobbiamo cercarlo insieme. Aspetta. Quella è Idris. Già. Credi davvero che lui sia a Staten Island? No, ma sono sicura che il clave ha controllato Idris. Forse cercano nel posto sbagliato. Quando ero piccolo, Valentine mi portava in uno chalet nella foresta di Brocelin. Credi che si nasconda lì? Probabilmente no, no. Ma scommetto che troveremo di più in quello chalet che ha Staten Island. Jace, devi dirlo a qualcuno. Sì, l'ho fatto. Il clave ha respinto la mia richiesta di un portale. Chiediamo a Magnus. Magnus è ancora la cortecili con Luke. Sfortunatamente, però, aprire un portale per Idris senza permesso non rientra negli accordi. Sono pochi gli stregoni così sciocchi da rischiare. Ma con uno stregone potrei arrivare al confine Svizzero e continuare a piedi. Sono solo circa 48 chilometri. È complicato. Credo proprio che non ci rimani altro. Una volta è inizio. E se non servisse uno stregone? Di cosa parli? Che stai facendo? Ha funzionato! È impossibile! A quanto pare no! Stai pensando allo sale, è vero? Sì, però aspetta un attimo, d'accordo? Il portale sta per chiudersi. Non so se potrò aprirmi un altro. Aspetta, ferma! Tutto ok? Sto bene. Sono un po' bagnata. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Benvenuta a Idris. Non so se potrò aprirmi un altro. 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 Grazie a tutti.